Selezioni la modalità di disegno del percorso. Disegni il primo tratto. Utilizzi il tasto V per inserire un tratto verticale. Definisci la lunghezza del tratto verticale. Utilizzi il tasto Invio per aggiungere ulteriori percorsi diretti. Utilizzi insieme il tasto Shift e il mouse. E colleghi le entità selezionate. Grazie per la visione!